Proviamo a disegnare le lentiggini con un eyeliner. Utilizzerò il Freckle Tint di Lottie London, il mio nella colorazione light. Ho super paura perché sembra scurissimo. Partiamo giusto. Ah, sembra scurissimo! Proviamo a tamponare, che casino, però... No, si sfuma benissimo, quindi forse devo lasciare asciugarlo un pochino. Non ho mai usato questi cosi, ho super paura di fare un macello. È super super scrivente e mi sta terrorizzando. Ci vado sopra magari con il dito giusto per sfumare un po' la situation. Vi consigliate come si utilizzano questi cosi? Aiuto! Ci provo ad andare sopra con un pennello, vediamo se è meglio del dito. Forse è un po' meglio. Ci vado sopra con un filo di cipria. Non mi sembra di essere molto brava a usare questo coso. 50 ore dopo ho quasi finito alternando eyeliner e cipria, esce molto meglio l'effetto. Sono carinissime ma sinceramente ci vuole tantissimo tempo e non so se lo rifarò mai. Voi che cosa ne pensate? Vi piacciono le lentiggini oppure no?